Siamo qui con Vero Massimo Mattini per il primo episodio di Pensiero Provincialotto e approfittiamo della tua presenza per chiederti un consiglio su un argomento estivo di punta. Quello di cui vogliamo parlare questa volta è la bronzatura, che interessa a voi tutti? Beh, sicuramente è un tema a meccaro la bronzatura, anche fra il polingialotti. Io penso che la cosa migliore sia quella di andare al mare e non comprarsi queste creme protezione 10, 20, 30, 40, insomma. Tu vai al mare e te bruci, te bruci completamente. C'è qualcosa? Scusi, già l'accendere. Io continuo, praticamente tutte bruci, te bruci completamente, in modo tale che poi dopo ti spelli e quando vai al mare non c'è l'esigenza di dover per forza mettere queste creme, insomma. Anche perché queste creme poi dopo un po' cioè, quando stai al mare poi ti impatti fondamentalmente di tutto quanto e non va bene. Quindi il mio consiglio per la bronzatura è bruciatevi. Oh ma grazie, ma che consiglio precisissimo. Certamente cambia la vita di tanti nostri lettori. Chi volesse seguire questo suo pensiero? Dove lo può trovare in modo da avere una visione un po' più completa? Beh, fondamentalmente sì, io esprimo i miei pensieri nei miei social network, nella mia pagina Facebook di Viero Massimo Macchini, la fanpage, perché quell'altro già lo ripiti, ha preso cani e porci, e anche sulla pagina Facebook di Marchetube e sul canale YouTube di Marchetube. Lì potete trovare i miei pensieri e ci sono tantissimi follower. C'è anche qualche appuntamento dal film o breve? Sì, sarò il 7 agosto all'Arena Gigli e Porto Recarati, con lo spettacolo Radica Crezzo, provincia Lotto a chilometri zero, e con me c'è anche Michele Giannucci che fa delle piccole patti, perché, cioè, quello che può fare lui. Ringraziamo Viero Massimo Macchini per il prezioso consiglio ai nostri lettori e arrivederci nella seconda puntata di Pensione Conocciato. Bruciatevi, bruciatevi completamente. Bruciatevi, 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 bruciatevi. Grazie a tutti.